Vito Oliva e Carmen Basile, a Partinico per girare scene del film. Il film è storia di un boss, di cosa si tratta? La storia di un boss è Revoluccio, si tratta dove il figlio di un boss che poi piglia comando a posto del padre sa che il padre è stato ammazzato, però non sa da chi e fa guerra con tutte le persone. Nello stesso tempo, mentre fa guerra, si distrugge la famiglia e poi si va a costituire. Cosa mai vista in un film? È un film sperimentale. Noi facciamo cinema sperimentale, non c'è copione, tutto questo bisogna avere una bella logica. E poi negli attori non ce n'è attori professionisti, sono tutte persone normali come noi, perché anche io sono normale, non perché faccio il regista. E poi tutto questo deve dire che la bravura non è solo negli attori, è attori e il cameraman, che serve in memoria, che è la regista. Direttore della fotografia che è mentre regista, già sa quello che deve fare per dopo montarlo, perché se no non è facile. Carmen, sei stata nominata. Beh, lo diciamo ufficialmente, le donne hanno sempre una marcia in più. Allora tu di che cosa ti occupa, a parte che io so che sei una regista? Io mi occupo del montaggio, mi occupo delle riprese e mi occupo di aggiustare un po' gli attori anche sul set, è tutto. Comunque è sperimentale, appunto perché ogni persona deve uscire il suo personaggio. Se noi abbiamo il regista tiranno, tutti gli attori diventano dei pupazzi e quindi non escono il loro essere. Invece se tu gli lasci, diciamo, diventano una famiglia, gli lasci libero di esprimere il loro personaggio, allora l'attore diventa vero e reale. Allora, una scena è stata girata al cimitero di Partinico. Sì, abbiamo girato una scena che poi l'abbiamo girata ora come ultima scena, ma effettivamente è una delle prime scene. Bene. Mentre ci troviamo in questo momento al comando della Polizia Municipale di Partinico, che ringraziamo, ma so che lo farete voi, ringraziamo per la disponibilità. Bisogna ringraziare sia il comando dei vigili e poi nello stesso tempo anche penso il sindaco e tutto quanto che ha dato la disponibilità. Anche l'assessore Diego Campione e il comandante Giuseppe Russo e ti do un aiutino. No, ma poi voglio ringraziare anche Piero Melissano che è qua vicino a noi nascosto. Scusa Piero. Ma l'idea è stata di Piero Melissano di girare queste scene a Partinico, lo diciamo? Sì, difatti lui mi ha tirato qua, vuoi venire a fare qualcosa a Partinico? Ho detto va benissimo a me, anche perché nella vita bisogna collaborare, mai passare avanti agli altri, dietro o mettere il bastone tra le gambe. Almeno io questo la penso io, poi gli altri non mi interessano. Quello che mi interessa è prendere spunto delle persone, chi è bravo e farle emergere. A volte le persone sono nascoste. Ma secondo te perché Piero Melissano ha scelto proprio Partinico? Penso perché è un bel paese, non per altro. E poi noi facciamo emergere tutta la Sicilia, perché ho girato la maggior parte del film in tutta la Sicilia. Perché deve essere la Sicilia che va vista nel modo perché ha ricchezza ma nessuno lo vuole mettere fuori. Allora può essere il turismo, grazie al cinema. Grazie al cinema ci può essere tanto lavoro, perché è una catena. Comincia ad essere per l'edilizia, per tante altre persone, perché se c'è tanto cinema c'è da venire a dormire dove vanno a dormire? Negli alberghi, nelle case. E tutto questo è in giro. Io so che questo film sarà anche distribuito tra le scuole, perché? Allora nelle scuole perché voglio che i ragazzi devono capire cosa significa la mafia. Entri in un modo per gioco, però esci sempre di solito o in galera o con i piedi stesi. Vuol dire morto. E poi distruggi sempre la famiglia. Però noi quando lo portiamo nelle scuole non lo portiamo solo a farlo vedere. Vogliamo discutere per capire cosa capiscono i ragazzi. Che bisogna parlare con loro, discutere, interagire e far capire questo. Come questo che dimappia, come quando sarà, tanto per dire, la violenza, il bullismo, quello che c'è da fare. Perché tutto questo è chiedere perché. Carmen, il messaggio quindi è un messaggio di speranza. Allora, a te il microfono per salutare la città di Partinico. Ok, io saluto tutti, ringrazio della disponibilità. È una bellissima città, ho visto che è anche addobbata per la festa, nell'occasione. E niente, il messaggio che vogliamo mandare noi con il film è appunto perché è un film contro la mafia. Quindi fare vedere ai ragazzi dove si va a finire se si entra in questa strada. Perché tutte le cose non sono poi alla fine come sembrano. Allora, intanto quello che voglio dire è che in questo film ha partecipato 600 persone. Nello stesso tempo ho valorizzato tutti per un motivo solo. Nessuno deve essere inferiore all'altro. E questo qui lo dico perché tante volte nel cinema nasce sempre gelosia, invidia. E questa cosa è la peggior cosa che c'è perché una persona può fare un ruolo con una battuta. Non vuol dire farne dieci, dieci battute. Una battutina solo e chiudiamo l'intervista. Che effetto ti fa essere un boss nella scena? Beh, dire la verità, io lo faccio in un modo normale perché essendo che lavoravo nell'edilizia e comandavo nell'edilizia, e farlo nel cinema è diverso. Ti metti nel personaggio e devi solo comandare. Quello che fai nella vita reale, come quando uno fa un'impresa e dirige. È la stessa cosa. Solo che le persone vedono la mafia in quella maniera. Però tu se lo porti a ragionare diversamente è uguale. Devi far capire che una persona può essere niente, come può essere tanto. Dal nulla fare tanto. Il cinema sperimentale è questo, con una telecamera e con la forza delle persone. Il regista senza attori non è nessuno. Gli attori senza regista non sono nessuno. E attori regista senza pubblico non è niente. Carmen, in questo film c'è qualche attore di punta? Chi? Sì, come attori di punta diciamo che più che altro sono anche collaboratori o altri che attori. Sono Alfonso Chiarenza e Pino Caltagirone. E Diego Chiarenza che è sì. Salvatore, il tuo ruolo nel film è quello di legale del boss. Che effetto ti fa? Beh, insomma, è un ruolo abbastanza scomodo. Nel senso che nella realtà non sarebbe facile difendere un boss il quale palesemente ha fatto dei crimini. Quindi diciamo la strada... Ma per legge tutti hanno diritto alla difesa, anche boss? Certamente, però difendere un boss sicuramente non è facile. Bisogna essere dei bravi vocati. Ma paga bene questo boss? Ancora non ho visto una lira. Miriam, qual è il tuo ruolo in questo film? Allora, io sarei la nuora del boss. Che scomodo? Sì, anche se vengo sballottata a destra e a Manca, a Sicilia, a Milano. Prima o poi va a finire in questo film, ammazzo io il boss. Perché sballottata così? Perché lui cerca di proteggere me, chiaramente pure Viola, che sarebbe la bimba che fa mia figlia. Cerca di tutelare ad ogni costo la famiglia, quello che è rimasto ormai, perché la maggior parte sono tutti morti. Qual è il tuo commento su questo film? Un messaggio forte di unione. Che dire, poi non solo, anche dietro le quinte è strutturata una grande famiglia. Quindi questo lo dobbiamo pure a Vito e a Carmen, che sono i capitani di questa grande squadra. Allora, io sono stato la spiegazione del gruppo. Allora, quindi credendo. Allora.